Ennesima tragedia sul lavoro nel Cilento. A perdere la vita un operaio 48enne di un caseificio di Capaccio Pestum e originario di Castel San Lorenzo. Alle prime luci dell'alba, durante il primo turno di lavoro, è accaduto il fatto. L'operaio, intento svolgere le sue mansioni di lavorazione del latte, ha accusato un malore e si è accasciato al suolo. È stato soccorso prontamente dal personale del caseificio, ma una volta arrivati i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Si è trattato con ogni probabilità di un malore fulminante. La salma è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale di Roccadaspide e rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'esame esterno del corpo, che potrebbe essere effettuato in giornata dal medico legale.